Erano le allodole le prime creature a indicare il cambiamento di stagione, ossia la fine dell'inverno. Le prime allodole arrivavano quando il sole nella sua risalita rendeva libere dalla neve le rive esposte a sud. Un mattino sentivi un brivido percorrere le membra, vedevi uno svolare sopra la proda e dopo il trillo gioioso dell'allodola mattiniera. Era un attimo di felicità. Ma da dove arrivava questo intenso sentimento? Da quale remotissima mattina del mondo? Era bello quel giorno. Era bella tutta la terra. Era buona la gente. Ora le allodole non arrivano più. Il mondo è il mondo. Grazie a tutti.